ecco il suo minestrone signora grazie caldo caldo no no grazie non mi va più no ma lo mangi è la nostra specialità no non credo che non sa che cosa si perde ma assaggi com'è ma guardi forse avrò mangiato troppo pane vorrei passare direttamente al secondo grazie abbiamo coda la vaccinara e involtini col purè involtini col purè caldi caldi i suoi involtini signora caldi caldi e non mi vanno grazie ma gli assaggi ci vengono dei clienti da fuori con i pullman vanno via soddisfante sì ma un attimo assaggi soltanto attento signor dito com'è no guardi mi dia il purè per favore senza altro signor ma non è possibile che ogni volta che mi serve qualcosa ci infila il pollice dentro a questo no è che siccome ho il giradito un padereccio lo vuole vedere non è il caso ecco il dottore mi ha detto di tenerlo al caldo umido e lei lo infila nei piatti ma se lo infili nel culo lo faccio ma fra una portata e l'altra vuole un dito divino